Nicola Cordone, deputizio di SIA, che cosa ancora impedisce all'Italia di essere tra i paesi più avanzati nella digitalizzazione e cosa sta facendo adesso la sua azienda? Noi offriamo servizi in Europa, istituzioni finanziarie, aziende e pubblica amministrazione, quindi confrontando quello che vediamo in Europa rispetto a quello che abbiamo in Italia, vediamo che poco ci manca, nel senso che i post ne abbiamo di più della media europea installati, carte ne abbiamo 100 milioni, quindi ne abbiamo tante. Quello che manca un po' è l'utilizzo di queste carte, quindi dobbiamo incentivare l'utilizzo della moneta elettronica. Secondo noi ci sono due leve, uno agire sulla pubblica amministrazione che vale il 50% dei pagamenti italiani, quindi digitalizzare l'APA, qui Agid sta facendo molto insieme al gruppo di Piacentini e a breve partiranno sette comuni che manderanno addirittura la notifica sul cellulare, quindi uno può vedere quello che deve pagare con un clic e pagare, oppure su internet, oppure all'ufficio preposto. A parte l'APA serve poi un incentivo politico. Ad oggi abbiamo visto delle politiche penalizzanti per il cittadino, i blitz di Cortina, di Portofino, eccetera. Viene visto chi paga un po' come uno che evade al nero, eccetera. In realtà in altri paesi si danno strumenti dove si può avere un vantaggio fiscale, oppure un cashback, eccetera, che sono strumenti che costano, sì, però consentono di fare emergere il sommerso, quindi secondo noi questo potrebbe ampliamente colmare il gap del costo aggiuntivo. Noi di SIA offriamo ai nostri clienti possibilità di innovare. Siamo stati i primi in Italia a introdurre Apple Pay, Alipay, che è la soluzione dei cinesi, e abbiamo GIF, Instant Payment, eccetera. Quindi la nostra missione è quella di aiutare il sistema finanziario e le aziende e la pubblica amministrazione a fare l'evoluzione al 4.0. Grazie.